E' sedata? Ok, ok, vieni. Ok. Owen, stai bene? Sto bene. Quanti ne può salvare? 11 specie. Blu era l'ultima della sua. Non la catturerà mai. Forse conosce qualcuno che può aiutarci. Un salvataggio. Cosa può andare storto? Ehi, Blu! Tu mi conosci? Vieni con me. Sai che non puoi stare qui. Richiami i suoi uomini. Erano tutte bugie! Ha dimostrato che i raptor eseguono ordini. Sa quanti milioni può valere un raptor addestrato? Li venderanno. Blu no. Lei serve per qualcos'altro. Cos'è quella cosa? L'hanno fatta loro. È la creatura più pericolosa che sia mai vissuta sulla Terra. Io dico che chiudiamo la faccenda. La potenza genetica è stata liberata. non possiamo richiudere il vaso. Blu! se non dovessi tornare, ricorda che tu mi hai fatto venire qui. Me la caverò. Erano qui prima di noi. e se non stiamo attenti. Saranno qui anche dopo. Benvenuti a Jurassic World. a Jurassic World. o a Jurassic World. o a Jurassic World. Grazie a tutti